Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video lunedì, facciamo il punto della situazione per quanto riguarda l'analisi tecnica e ciclica di Bitcoin perché in questa settimana sono successo una serie di cose molto importanti. Oggi guarderemo anche la dominance di Bitcoin, me l'avete chiesta nei commenti, ma soprattutto la guardiamo perché è importante in questo momento in quanto la scorsa settimana le altcoin hanno performato meglio di Bitcoin. Alt season alle porte, andiamo a vedere quali sono i segnali che il mercato ci sta dando, quindi alla fine di questo video guarderemo la dominance di Bitcoin e cercheremo di indicare 2-3 punti fondamentali per capire in anticipo se e quando potrà iniziare una nuova alt season. Cosa è successo questa settimana? Il mercato di Bitcoin e delle criptovalute in generale ha rialzato la cresta dimostrando ancora di essere vivo e vegeto, come sempre fa, ma soprattutto ha superato un livello di resistenza che ritengo estremamente importante, quello degli 8.000 dollari. L'ha superato anche in chiusura settimanale, questa cosa è estremamente importante ragazzi perché significa che il mercato dimostra per la prima volta, lo vedremo oggi nei grafici, una forza un po' più interessante rispetto a quella mostrata negli scorsi mesi. Ma come sempre fa il mercato ci lascia il dubbio su una cosa fondamentale, lo vediamo oggi, un'anomalia ciclica che potrebbe prendere piede, ci spostiamo sul grafico, Bitcoin, analisi di quello che è successo in questa settimana e quello che potrà avvenire in questa settimana che sta arrivando e alla fine dominance, alt season, sì o no? Ok ragazzi, siamo sul grafico, immediatamente quello che voglio farvi vedere è il grafico ciclico che noi guardiamo sempre per quanto riguarda il mercato di Bitcoin. Oggi guardiamo solo questo perché le altre altcoin ragazzi sono alla stessa stregua di Bitcoin. Analizziamo subito quello che è successo in questa settimana, le due giornate del 6 e 7 di gennaio hanno dato questo grande impulso rialzista al mercato. Tutto giusto, tutto corretto secondo quella che era l'analisi ciclica di un nuovo mensile iniziato il 18 di gennaio che aveva fatto la sua metà ciclica il 3 di gennaio. Quindi subito, immediatamente il mercato riparte a questo punto siamo arrivati a un massimo. Massimo che io ho più volte citato nell'academy, nelle varie analisi che faccio giornalmente per indicare una cosa molto semplice. Questo massimo è il massimo del ciclo mensile o il mercato cercherà di farne uno nuovo. Allora, quando era il momento? Era qui ragazzi, nelle giornate del subito dopo questo massimo, quindi in questo punto e in questo punto. Quindi il 10, l'11, il 12, queste erano giornate possibili per fare un nuovo ciclo, un nuovo massimo di questo ciclo mensile e il mercato ha fallito il suo compito, aprendo la possibilità di una fase di ribasso che potrebbe a questo punto essere cosa ragazzi? 1. La chiusura del ciclo mensile che stiamo aspettando, oppure secondo questa view ternaria, adesso lo andremo a vedere, potrebbe essere semplicemente una semplice fase di respiro. Allora, da teoria classica ragazzi, il ciclo mensile dovrebbe chiudere più o meno intorno al 15-20 di gennaio, quindi in questa zona temporale qui ragazzi, tra mercoledì e insomma il weekend, la prima parte della prossima settimana. Quindi questa settimana qui, lunedì, martedì, insomma questi giorni, sono in giorni di una fase negativa, di una fase ciclica che potrebbero portare a una fase di assestamento del mercato, ripensamento del mercato o addirittura anche un minimo ribasso, quindi c'è da stare attenti da questo punto di vista. Però, ragazzi, ricordiamoci sempre una cosa fondamentale, quando un ciclo chiude, ne inizia uno nuovo. Quello che a noi interessa in questo momento non è tanto il trading o il posizionamento short su questa fase di chiusura ciclica ragazzi, voi sapete che io non faccio short già da qui se non sbaglio, quindi a noi cos'è interessa di questa fase ciclica? Interessa che poi chiude e ci interessa questo, ragazzi, la ripartenza del nuovo ciclo mensile. Perché vi dico questo? Perché se questo ciclo in questione, iniziato il 18 di dicembre, è il primo del nuovo annuale, la vera forza, ragazzi, l'avremo nei mesi successivi. Quindi in questo che partirà probabilmente da gennaio in poi o addirittura quello di febbraio. Al momento, ragazzi, lo possiamo vedere anche da un punto di vista di grafico settimanale. Guardate il grafico settimanale di Bitcoin. Questi sono i prezzi di Bitstamp, non Bitfinex, ma è uguale. Guardate il grafico settimanale, ragazzi. Il trend non è ancora invertito. Questo è il problema di fondo. Quindi in questo momento, se noi andiamo ad analizzare un trend tra il punto di massimo e la giornata di oggi, vedete com'è la nostra retta di regressione? Il canale di regressione ci indica un trend ribassista. Perciò al momento il mercato non ha invertito il trend e quindi sta pensando un po' il da farsi. Anche il discorso settimanale, ragazzi, vedete, si è appoggiato sulla trendline superiore, però questa volta ha fatto una reazione leggermente più tranquilla rispetto alle precedenti. Guardate qui la candela settimanale come aveva pronunciato la sua shadow, molto pronunciata. E badate bene che nella settimana scorsa il mercato aveva provato a fare nuovamente una shadow pronunciata. Era sceso moltissimo, ragazzi, ma poi è ritornato sui suoi passi. Questo è uno swing, si dice in gergo, quindi significa che i ribassisti hanno preso forza, a un certo punto sono stato stoppati e riassorbiti, quindi sono stati menati un po'. E questo significa che probabilmente questo rialzo è un po' più consistente, quindi c'è un po' di paura anche da parte degli shortisti, quindi dei ribassisti. Quindi, prima view ciclica, chiusura tra il 15 e il 17 di gennaio, quella teorica, quella più probabile, oppure la view alternativa, il ciclo mensile da 23 giorni, identico al precedente piccolo da 23 giorni, che è stato chiuso in questo caso il 10 di gennaio, vedete, e quindi a questo punto cosa avremo? Avremo con probabilità, se sposiamo questa view, un ciclo da 23-20 giorni centrale, circa, e poi un successivo ciclo ancora piccolo a chiudere i due mensili. Quindi, tecnicamente, sarebbe un ternario. Come si forma un ciclo ternario? Si forma così, ragazzi. Va bene? In questo modo. Questo potrebbe essere l'andamento di due cicli mensili messi insieme. Come facciamo a sapere se questa view verrà sposata, oppure verrà sposata quella classica? Guardando la logica dei massimi del mercato. Intanto, al momento, io continuo, ragazzi, a guardare il mercato con una chiusura mensile attesa per il 15, quindi classica, insomma, ecco, a 30 giorni, per il 15-20 di gennaio. Se il mercato fa trading range, come sta facendo, e a un certo punto mi riparte, andandomi a superare in pratica, ragazzi, in close daily, questi livelli di resistenza, quindi 8.300, 8.500 dollari, superandoli in close daily, abbracciamo immediatamente la figura ternaria, cioè con un ciclo mensile chiuso il 10 di gennaio. E' quindi una maggiore forza in questa fase, che magari fa così, e poi, boom, se ne va qua sopra, e poi se ne va in chiusura. E poi vedremo, insomma, ci riaggiorneremo sempre, come sempre, sul canale, ragazzi. Quindi iscrivetevi, perché sono momenti concitati del mercato delle cripto. Qui, secondo me, si scrive la storia dei prossimi anni. Lo vedremo, vedremo se ho ragione o meno, ma è molto, molto importante questa fase. Bene, vi ho detto quello che penso. I livelli, come sempre, 8.000, importantissimo. Se va giù, ragazzi, il prezzo importante sotto i 7.800, chiaramente è questo qui, 7.500. Allunghi si possono vedere, se fa una chiusura di un ciclo mensile classico, quindi quello da 30 giorni, potremmo vedere degli allunghi tranquillamente anche così. Sarebbero un po' eccessivi, è vero, però ci possono stare, ragazzi, tra 7.800 e 7.500. Se il mercato fa trading range, attenzione alle ripartenze. Per me il mercato resta un po' più realzista dopo questa chiusura mensile. E, pertanto, mi interessa il riposizionamento dei trade di natura settimanale, 10 giorni, per il prossimo ciclo al rialzo che il mercato potrebbe avere. Quindi queste giornate di ribasso dovrebbero consentirci di capire più o meno quello che il mercato ha intenzione di fare. Passiamo invece alla dominance per vedere se l'alt season è alle porte o meno. C'è intanto un dogma, chiamiamo così, o comunque un'ipotesi iniziale che dobbiamo sempre valutare quando parliamo di alt season. Badate bene una cosa molto importante. Le altcoin reagiscono meglio rispetto a bitcoin sulle fasi di volatilità molto in alta. Nella scorsa settimana la volatilità è stata più consistente rispetto ai mesi precedenti, quindi il mercato ha avuto una maggiore volatilità, le altcoin hanno reagito con maggiore volatilità. Mentre nelle fasi di ribasso, nelle fasi di ripensamento, bitcoin reagisce meglio, quindi è più difensivo delle altcoin. Andiamo a guardare intanto il trend della dominance. Indica cosa ragazzi questo trend? Questo è un indicatore di sintesi che ci dice se le altcoin vanno meglio di bitcoin, se conviene in sostanza spostare i nostri investimenti in crypto su altcoin piuttosto che bitcoin. E come vedete dal gennaio del 2018 no, conviene restare su bitcoin assolutamente ragazzi. È raro trovare una criptovaluta che ha performato meglio, ce ne sono, c'è qualcuna che ha performato meglio, Binance Coin per esempio in una parte dell'anno, Link, insomma ci sono delle cripto, ma sono delle eccezioni ragazzi. Quando si fanno investimenti poi importanti, al di là dell'eccezione della singola cripto, bisogna guardare il settore, quindi in questo momento il mercato delle criptovalute sta su bitcoin come valuta di riferimento, quindi come investimento più importante. Non ci sono inversioni di trend sul dominance, bensì c'è una cosa molto importante e volevo farvi vedere questa peculiarità, guardate queste fasi di massimo, tenetele bene a mente, va bene ragazzi, perché questi massimi sono stati fatti nello stesso identico mese. Quindi qui siamo a settembre del 2018 e qui siamo a settembre del 2019. Ancora una volta ciclicità incredibile di questo mercato, andiamo a vedere però tra un massimo e un minimo quanto dura la fase di ripensamento. è dura ragazzi, 200 giorni qui, io vi ho messo una specie di timing temporale che è esattamente aprile del 2020. Cosa significa ragazzi in questo caso? Se c'è una simmetria, non lo sappiamo, ovviamente è una idea generale, significa che probabilmente ci sarà una barra di congestione, quindi un ripensamento di Bitcoin da qua fino a magari marzo, febbraio-marzo, dove in sostanza il mercato tenterà magari di restare in barra di congestione e magari far avvicinare questo livello di trendline. Il problema è dopo, ragazzi, è dopo. Quindi o qui c'è un'inversione di Bitcoin, ma in questo momento non la fa, non la sta indicando, e quindi l'alt season è alle porte, oppure ragazzi niente da fare, si sta su Bitcoin. Come facciamo a capire se l'alt season è alle porte? Guardate alcuni indicatori che dobbiamo tenere fortemente a mente in questo momento. Primo livello, questo 66% di dominance, perché coincide anche con le medie mobili importanti, queste sono delle EMA. E' molto importante, se il mercato non lo rispetta e Bitcoin inizia ad andare giù, e inverte magari questo canale ribassista, attenzione, attenzioniamoci, perché un ribasso al di sotto del 66% della dominance presuppone un ciclo di trend leggermente ribassista. Lo vedete qui in questo momento. Perciò se il mercato ci inverte su Bitcoin, intanto significa una cosa, che la volatilità è salita perché vuol dire che le altcoin vanno su di più di Bitcoin, e perciò il mercato tenderà a salire. Quindi ci sarà una fase di alzista del mercato. E poi significa che potrebbe avvenire un altseason. A quel punto facciamo stock picking, andiamo a decidere quale sono le altcoin che potrebbero performare meglio nei confronti di Bitcoin, e ci prepariamo. Ma prima di tutto il primo segnale discesa sotto i 60, diciamo 65 ragazzi, di dominance, su chiusura almeno weekly per quanto riguarda la dominance. E insomma ci posizioniamo anche su questo. Facciamo anche un'altra bella cosa. Andiamo a mettere su un video ad hoc per dire quali sono le altcoin che potrebbero performare meglio su Bitcoin, se questa cosa si avvera. Al momento quindi all in su Bitcoin resta valido. Ma ci sono delle altcoin interessanti, se Bitcoin prova un'inversione sulla dominance e dà il via un altseason, dove andiamo a mettere i nostri soldini. Bene, vi ho detto tutto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, per i prossimi video e video di aggiornamento, soprattutto nei commenti. Cosa ne pensate? Quali sono secondo voi le altcoin che in questo momento potrebbero performare meglio di Bitcoin? Se mi rispondete a questa domanda vuol dire che siete arrivati a questo punto del video e quindi io vi faccio i miei complimenti. Ciao a tutti, buon inizio settimana.